salve regà allora molti mi hanno chiesto come gira la voce da ieri sera che la bobo tv si è sciolta si è sciolta la bobo tv che ne pensi che ne pensi spai mio certamente non me ne frega un cazzo che si è sciolta la bobo tv nel senso perché io non è casa seguivo io su twitch c'ho il canale twitch ma da quando il twitch mi ha bannato per una settimana mi ha levato tutte le cose ho detto per me twitch è morto il vero twitch era justin tv appunto sto twitch sinceramente non mi è mai piaciuto ci sono entrato perché mi era presa un po delle cose contro youtube però alla fine io sono nato con youtube nel 2007 ho provato di me ho provato tanti non ho provato le social adesso sta a provare tik tok iscrivetevi su tik tok saprò tik tok cominciate a fare qualche video in più e poi mette il link sotto e iscrivetevi e li provo perché così proviamo un attimo questi social ma sinceramente anche se tante volte youtube mi ha fatto incazzare però penso che youtube rimane il miglior social per me poi ognuno può pensare come gli pare comunque allora torniamo a bobo tv allora io ogni tanto guardavo ma non da 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 viola cioè lo guardavo su youtube quando riportavano i pezzi le dirette da lì le metterò su youtube poi spezzone ogni da ogni tanto non ero un come se dice un utente che li segue costantemente come fanno tanti no io ogni tanto gli davo un'occhiata e ogni tanto che passavano qualche video ho fatto a sentire che ha detto cassano fatto a sentire che dicono di qua che dicono della e ogni tanto gli davo un'occhiata ma non era un utente che cioè io per farvi un'idea in una settimana forse mi vedevo un video in una settimana perciò non è che li seguivo assicuramente mi interessava poco anche se è molto vista sta cosa più che altro per un motivo visto eccomo adesso sono andato a scartabella un attimo perché ho visto sono andato a vedere sono andato vieri che ha fatto un comunicato e poi ieri me pare o l'altro ieri c'è stato una perché cassano ogni tanto si attaccava con ieri allora cassano siccome si sa è malato e ricchione pepe messi allora secondo me hanno ridicato per messi secondo me perché purtroppo cassano è malato è un personaggio malato in quella donna perché c'è stato messi adesso tutte pippe c'è lui c'è solo quello perciò quando uno è malato e non ne va fa nulla perciò quelle malattie messi e forte nessuno lo ha mai messo in dubbio però purtroppo lui non si rende conto che dice tante di quelle cazzate c'è io ho visto che hanno litigato per ronaldo poi perché la cosa è nata su ronaldo perché messi e ronaldo non vale in cazzo ma purtroppo al caro al caro al caro cassano che forse un mezzo mezzo neurone di girantezza forse non capisce che ronaldo è un campione e ancora gioca ancora fa qualcosa di buono e c'ha 39 anni fra un po e fra un po fa 39 anni cioè è vero che magari non è stato ultimamente quel ronaldo che era fino a 32 33 anni prima che pure con la io un pochino un po se salvava ancora ma si vedeva che era proprio in fase calante a 35 36 anni normale che va in fase calante e però bene o male il suolo fa sempre molto meglio di tanti giocatori che dicono che sto qui che sono l'are molto meglio di tanti giocatori allora qui si parla sempre dei gol dei cose allora dice a me non me ne frega un cazzo dei gol che ci stanno pure giocatori che hanno fatto cento gol invece dei mille che ha fatto ronaldo o 50 gol che sono più forti di ronaldo cioè io io veramente sto soggetto non riesco a capirlo che sta sul cazzo ronaldo è un altro problema è quello che lui non vuole capire e questo è il problema del ragazzo che gli sta testato le palle base capito c'è allora a te non ti piace non poi di che quello l'ha fatto vedere una graduatoria poi stava a vedere una graduatoria c'erano ronaldo c'è stava messi e ronaldo era sesto mi pare una cosa del genere non mi ricordo le vandoschi eh infatti ce ne stavano altri 20 sotto per lui erano tutti più forti che ronaldo ecco lì quello è quello tu sei prevenuto cioè tu sei un personaggio prevenuto cioè tu mi fai capire che non capisci un cazzo dei calciatori e dei palloni tu non capisci un cazzo perché tu sei così c'è col paraocchi cioè non posso io sminuire una persona perché mi sta sul cazzo cioè è quello che non capisci ecco la mentalità del cazzo che a me non mi piace ecco perché l'altra volta non guardavo la trasmissione perché l'altra volta se non sceglieva che te li putterà a volte ha detto pure delle cose giuste per carità però sul fattore perché tu sei malato per Messi e lì si sono attaccati forte con Bobbo se sono molto attaccati c'è stata questa cosa che secondo me è stata proprio l'ultima scantilla che ha fatto la scatta tutto perché purtroppo lui allora Bob è stato un attaccante Bobbovieri è un attaccante un buon bomber è stato un Bobbovieri e lui guarda soprattutto la finalizzazione che è il calciatore invece Cassano che guarda sì la finalizzazione dice non me ne frega un cazzo che tu fai gol ok però il Messi ne ha fatti pure tanti non è che non l'ha fatti poi lui guarda la giocata no? Cioè perché Cassano era un giocatore simile nel senso no come il Messi però c'aveva quelle giocate lui gli avevano quelle giocate l'assist e la cosa il dribbling come marcava come giocatore che c'ha i capito ma deve marcar salta l'uomo queste cose così addirittura ha detto che Holland quasi non vale è un cazzo cioè cioè quando uno parla dice così cioè che cosa significa che tu c'hai la mente bacata cioè tu c'hai la mente bacata allora ha detto che la Juve Ronaldo è andata per vincere la Champions League e non l'ha vinta è perché Messi l'ha vinta col palizzo del Germain e c'era i giocatori più forti cioè scusa cioè però lui ha vinto il mondiale da solo ma che ha vinto il mondiale da solo a prescindere che ha vinto ai rigori alla fine perché se sbagliano i rigori il mondiale ha vinto alla Francia cioè stronzate hai pareggiato in finale pareggiato con la Francia punto come ho detto per me il pallonatore non lo merita infatti è stato fissiato a Parigi è stato fissiato da tutti perché veramente l'hanno fissiato perché tutti dicevano non lo meritava non lo meritava il pallonatore e io per me non lo meritava perciò ho detto minimo due palloni sono regalati i pallonatori li hanno regalati a Messi lui se fosse stato per Cassano avrebbe 250 dei pallonatori cioè pure che magari giocava senza la gamba o magari sartellava ok messi e sempre Messi perché lui è prevenuto e quando sei prevenuto tu te calcio non capisci una massa non capisci una massa e come anche in tanti altri settori quando tu sei prevenuto perché a te quello che sta sul cazzo non è buono non vale un cazzo cazzate cazzate damma Cesare quello che è di Cesare punto purtroppo sto tipo di cosa per Cassano non esiste Bobbovieri si è fatto girare i coglioni perché alla fine dell'altra volta ascolta sempre che palle con sto Messi che palle una volta hanno fatto la discussione su Holland per stare a vedere ma che cazzo ma questo veramente è scemonito forte no perché Holland non c'è ma Messi c'è le cose di Holland non ce l'ha no perché io voglio vedere adesso adesso che Messi se n'ha nato voglio vedere che cazzo vedremo più uno ma che cazzo è ma che addio Messi fammi capire cioè veramente è un grande giocatore punto punto basta c'è l'articolo altri giocatori non va appena pippa perché secondo lui non va bene ma Ronaldo Benzema tu nel senso a confronto adesso pippe però se ci sta in mezzo Ronaldo con quelli che ho citato che sto pippe con Messi diventa tutti più forti di Ronaldo perché sei prevenuto e Bobbovieri si è rotto il cazzo di sta cosa gli è rotto gli coglioni c'è tanto mi è rotto gli coglioni gli avrà detto battene a fanculo non te sopporto più perché veramente sei una capra se secondo te il calcio è solo Messi battene a casa ecco allora gli ha detto pure allora gli ha detto sì perché pure Agnesta cioè ha cominciato a fare dei paragoni assurdi allora Bobbo se ne esce vabbè pure i cabrini allora se andiamo a vedere gli ha fatto pure i cabrini che cazzo stava parlando se si voleva mettere a cacchia a parla dei giocatori allora che volevo dire cioè se esce se ne esce a cazzo dei cani cioè lui è accecato è accecato ci ha solo Messi dentro la capoccia punto finisce la storia e io ogni tanto li seguivo perché magari c'è stava questi battibecchi dove più forti sentivo queste cose allora magari l'andava a vedere perché sinceramente io non l'ho mai seguita non ho mai seguito una puntata tutta intera dei loro quando fanno le puntate mai ho visto qualche spessone 5 10 15 minuti al massimo punto punto perché sai che c'è sempre una trasmissione forzata in quel lato là cioè forzata perché ce ne sta lo scemo del villaggio che sarebbe cassano che deve fare va 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 c'è deve sta ventola che sta muto come una cosa c'è stata anni che fa il tuttologo nel senso che anche è bravo l'unico lì dentro l'unico bravo secondo me è adani quello che veramente parla di caccio che ne sa qualcosa e poi bobo che spalleggia che sta tranne la via de mezzo questo c'è capito poi c'è diciamo che il gruppo è buono in quel lato là però sinceramente certe volte ci sta cassano con le sue abbe conosciamo tutti cassano però a volte esagera e quello è il problema e secondo me vieni a sbroccato perché esagera perché mo è rotta il cazzo te sopporto più è normale che se se ne va via un perno c'è una ruota la macchina con quattro ruote stacca una ruota un po cammina cammina male alla fine dice sai che c'è vabbè è nato lui non è che potremmo continuare così o sostituirlo che chiuderemo senti tanto la televisione alla tua bobo pensaci tu noi lasciamo perdere poi magari vedremo più avanti quello che può succedere secondo me è nata così secondo me hanno ridicato per fatto di messi non altro che sono state qua perché cassano come al solito se non ci avesse i paraocchi proprio i paraocchi come i somari mannari cioè poteva stare di come si dice un colpa a botte una cerchia si dice invece no cassano no solo i colpi a botte volerà non funziona così purtroppo è quello cassano questo non capisce perché ignorante e questo lo sappiamo tutti ciao rega